PIPARCHETIPI Filigrane fotocompositive, risme ristampatorie refusive, asteriscano accenti alfabetieri, note normanne, necrologi neri, codici con cilindri corsiveschi, elvetici e zeviri edizionati, scannerizzano stampi satineschi, chiose con capoversi commentati, occhi occhiellati, opuscoli ofsepeschi. Puntatori, prototipi, pirografi, inchiostrano impilati impressionanti, rotativano rulli rotolanti, epigrammano evicole e erotografi. Logografi, linotipi, litografi, letteringano lastere libertanti a anastatici archetipi achirografi.